Io sono Carlo Consiglio e sono Presidente della Lega per l'abolizione della caccia, quindi noi come associazione stiamo per l'abolizione totale della caccia, però adesso in questo momento ci troviamo di fronte al fatto che la Camera dei Deputati sta per approvare una proposta di legge che riguarda anche una estensione della caccia, cioè si vorrebbe permettere alle regioni di prorogare la chiusura della caccia oltre il 31 gennaio. Il 31 gennaio è il limite attuale di fine della caccia ed è dettato dal fatto che la caccia fatta nell'ultima parte dell'inverno uccide soltanto dei riproduttori perché gli animali che ci sono ancora in questa stagione sono quelli che hanno superato la mortalità naturale invernale, quindi uccidere questi animali sono quelli che sono destinati a riprodursi e poi la direttiva europea vieda la caccia durante la migrazione, la migrazione è già in febbraio, siamo in piena migrazione e durante la riproduzione e durante anche la nidificazione e quindi tutto questo viene violato se si estende la caccia in febbraio o peggio ancora in marzo. Quindi noi siamo qui per lottare, per non perdere almeno le conquiste negli ultimi 20 anni perché l'attuale legge sulla caccia è del 92, siamo nel 2010 quindi sono 18 anni che abbiamo questa legge che ha messo questo paletto del 31 gennaio e adesso si vuole togliere il paletto e quindi noi siamo assolutamente contrari.